L'importanza dei progetti ABC è una cosa molto grande in questo momento in cui sembra che si sia fermato un po' tutto. La speranza un po' stava morendo quando durante questi mesi di pandemia si è vista un po' scomparire tutta questa parte di cultura, tutta questa parte anche di cinema, se vogliamo, dato che sono stati chiusi dei teatri, quindi si sono bloccati tutti questi luoghi fondamentali per i ragazzi, per la cultura e si è dato magari invece molto spazio a tutte queste cose digitali che hanno un po' messo da parte tutto quello che poi invece per fortuna piano piano sta ritornando e i progetti ABC hanno sicuramente dato la speranza dopo questo periodo perché con la divulgazione di questi nuovi progetti è ritornata un po' una sorta di macchina in movimento che ha permesso poi a un certo punto anche di scoprire una grande parte di persone, di ragazzi e di giovani che hanno in realtà lavorato, quindi hanno messo sulla piazza dei progetti, delle cose importanti, anche parlando del fatto che sicuramente i luoghi della nostra regione hanno permesso lo sviluppo di alcuni progetti, anche di molti soggetti cinematografici in realtà dove poi verranno girati sicuramente dei progetti, quindi penso che non si debbano mai fermare questi progetti, queste iniziative e che sia una piccola speranza in questo grande mondo che ormai diciamo sta venendo un po' mangiato dal social, dal digitale, forse un po' forte quello che dico però spero che sia la cultura che si mangi quest'altro mondo dall'altra parte. Consiglio a tutti i ragazzi che vogliono intraprendere una carriera cinematografica, artistica, musicale, teatrale, non so diciamo parlo per la mia esperienza, sicuramente di desiderare senza brama tutto questo, nel senso che conoscere, leggere, vedere tanti film, ma chi di solito ha passione già questo lo fa, quindi comunque sicuramente sapersi fare spazio in un mondo che è molto difficile poi diciamo poter entrare per spaccare quel muro e riuscire a fare delle cose non è facile, quindi quello che consiglio è sicuramente di portare qualcosa di diverso senza paura, perché ci sono molti progetti che non vengono presentati perché possono essere rischiosi, possono essere magari troppo strani per quello che c'è in questo momento sul mercato e invece consiglio a tutti i ragazzi che vogliono fare questo lavoro di senza paura di presentare le loro idee, di presentare la loro arte e in qualche modo di farlo anche magari ecco senza come dire a volte uno quando vuole qualcosa diventa un po' si vede che c'è quella fame che vuole fare qualcosa, sì sicuramente questo può essere utile, però bisogna anche sapere un po' misurare questa cosa qui, perché alla fine se una cosa la sai fare, la vuoi fare passione, comunque arriva un momento in cui incontri le persone giuste che possono sposarsi col tuo progetto, quindi mi veniva solo in mente questa cosa di desiderare senza Abramo quello che si vuole.